Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 19 marzo Leonardo Piccinini e Romaranghi prima di iniziare vogliamo salutare un nostro preziosissimo telespettatore Raimondo Fulcheri l'avvocato Fulcheri che però è anche un fotografo è un fotografo davvero di rispetto ritrae con i suoi scatti vari soggetti della natura e i volti che lui incontra nelle sue peregrinazioni ci sono le persone che aspettano il metro c'è un signore che dorme su un prato ci sono i bambini con il cappotto un duanono strano e da sempre lui predilige il bianco e nero ma soprattutto lui guarda l'almanacco questo insomma è il gioia ci piace la gioia e poi forse annunceremo una nostra intromissione in quel di Biella va bene a me piace molto Biella anche a me si dice di Londra o di Biella di Londra o di Biella e poi andiamo anche a Europa Europa parleremo di Puccini Quello di cui stiamo parlando è davvero un personaggio singolarissimo della storia musicale del novecento purtroppo una meteora una meteora le ragioni sono diverse però c'è una fortuna che forse sta anche nel nome indimenticabile questo luogo strano è un nome è un luogo strano il suo che gli ha permesso di restare sempre alla page sempre rimasto un personaggio da cui era necessario passare chiunque abbia avuto il desiderio di scoprire il pianismo del novecento si è dovuto confrontare con la figura di Deinu Lipatti i nomi inu sono o in Romania o in Sardegna perché c'è Deinu Unlipatti poi c'è Radulupu poi c'è Ilvotolu che non è rumeno ma sardo certo e ci sono tanti altri c'è il genargentu E' singolare questa cosa della Romania e della Sardegna Lui non è mai caduto nell'oblio e questo ci piace perché è scomparso molto tempo fa è stata una meteora ne parliamo oggi perché lui nasce a Bucharest del nel 1917 è un percorso artistico che copre un arco di pochi anni è morto a soli 33 anni a Ginevra nel 1950 di una malattia però nonostante la breve età c'è molto da raccontare D'altra parte a volte come sappiamo vista diciamo la nostra religione cristiana anche a soli 33 anni si possono fare grandissime cose Non era figlio d'arte però nasce in una famiglia che era molto legata ai massimi esponenti del mondo musicale rumeno tant'è che sappiamo il suo padrino sarà il grandissimo Gheorghe Enescu Che all'epoca era il musicista rumeno di maggior prestigio internazionale quindi lui cresce in una famiglia di musicisti di rapporti con la musica Un mondo meraviglioso Il padre era un violinista direttante però aveva studiato bene con Pablo de Sarasate Senti Leonardo che cosa accade che lui dopo aver concluso gli studi al conservatorio di Bucharest fa un exploit con il botto 1934 siamo al concorso pianistico di Vienna e il ragazzo ottiene il secondo posto Ma scoppia una tempesta perché pensate i nomi della giuria Sorau, Bakaus, Giseking, Rachmaninoff, Vandalandowska Ma ce n'è uno che non accetta il verdetto E chi è? Si chiama Alfred Courtaud e lascia la commissione in segno di protesta È il presidente e lui insiste perché questo giovane pianista lo segua a Parigi e diventi un suo allievo Allora Courtaud che era un uomo molto sottile sapeva benissimo che Lipatti non aveva nessun bisogno delle sue lezioni Sapeva benissimo che Lipatti non aveva nulla da imparare Era un concertista già bello e fatto Anche perché aveva avuto un insegnante florica musicescu che poi sarà l'insegnante di Radu Lupu Un mitico Radu Lupu Non aveva bisogno quindi di perfezionarsi e poi aveva uno stile completamente diverso da quello di Courtaud Però gli vuol fare questo regalo Parigi A Parigi Lipatti affronta gli studi di composizione prima con Paul Ducasse Poi con Nadia Boulanger e quelli di direzione con Charles Munch Ma la guerra è alle porte Dopo un breve ritorno in patria dove sposa la pianista Madeleine Cantacuzin Lipatti decide di stabilirsi in Svizzera E lui in Svizzera aveva ottimi rapporti Pensiamo a Ernest Ansermet Pensiamo a Stravinsky Pensiamo a Frank Martin Quindi con la moglie si stabilisce a Ginevra E ben presto ottiene la cattedra di pianoforte al conservatorio Che manterrà fino al 1949 La carriera di Lipatti è decollata ai massimi livelli Sin dal suo soggiorno parigino lui si è imposto sulle scene di tutta Europa I nomi dei direttori d'orchestra con i quali collabora sono i più bei nomi della direzione d'orchestra di quel tempo Parliamo di Toscanini, parliamo di Mengelberg, parliamo di Karl Böhm, di Scherchen Gode dell'ammirazione incondizionata di colleghi più anziani di lui Anche qui parliamo di Schnabel, di Clara Haskell, di Fischer, di Willem Kempf Subito dopo la guerra il produttore discografico, il mitico Walter Legge decide di inserirlo nella sua scuderia musicale Che incida regolarmente negli studi londinesi di Abbey Road Insieme a Karajan, alla moglie di Legge Elisabeth Schwarzkopf, a Maria Callas, a Otto Klemperer E con la quale lancia la EMI Ma nel corso degli anni in Svizzera purtroppo si manifestano i primi sintomi della malattia E il mondo medico barcolla e brancola nel buio Sì, oggi sarebbe stato possibile curarlo ma allora ancora tante cose non si conoscevano Purtroppo lui poi si affida a delle cure alternative che non daranno dei risultati Anzi che probabilmente ne accelereranno il peggioramento E è costretto a cancellare tutta una serie di importanti tournée E a rinunciare all'insegnamento Cosa accade? L'Ipatti è costretto a affrontare anche delle spese molto molto onerose Per curare una malattia sconosciuta E potrà contare, a dimostrazione di quanto fosse stimato Sulla generosità di alcuni colleghi Yehudi Menwin, il suo maestro Munch, ancora Stravinsky Sebbene le condizioni fisiche gli impongano di ridurre i programmi Sappiamo che lui faceva delle sessioni pazzesche all'inizio della carriera E di evitare un repertorio troppo impegnativo Lui continua a collezionare trionfi Nel settembre del 1950 siamo nella città francese di Besançon C'è il suo ultimo concerto che fortunatamente è stato registrato Si spegne, come abbiamo detto, all'età di 33 anni a Ginevra Il 2 dicembre del 1950 Walter Leghi ha definito il lascito discografico di L'Ipatti Di ridotta estensione ma fatto dell'oro più puro E in effetti la fama di L'Ipatti, anche grazie a un'abile strategia Nella gestione delle ristampe discografiche e della pubblicazione delle poche incisioni inedite Si è dimostrata straordinariamente longeva Allora, il lascito ufficiale conta tre ore e mezzo di registrazioni Poi sappiamo che negli anni si è arricchito perché sono state rinvenute alcune registrazioni dal vivo Che erano state catturate dalle diffusioni radiofoniche del tempo Quindi oggi chi volesse conoscere questo grandissimo pianista Può contare su una dozzina di dischi, di incisioni Nel suo repertorio troverete Mozart, Chopin, Bach Ma anche il Novecento, per esempio io penso a Ravel e all'ungherese Bela e Bartók Leonardo, a guardare il repertorio di L'Ipatti non c'è Beethoven Perché? Qualcuno ha ipotizzato che lui non lo volesse eseguire e che lo snobassi In realtà, a ben studiare, pare che non solo l'abbia affrontato di frequente dal vivo Ma che avesse in cantiere una registrazione dell'imperatore che non si è mai materializzata Allora, lui avrebbe certamente potuto segnare il mondo pianistico nel secondo Novecento Però queste sono forse delle domande oziose Il profilo artistico di L'Ipatti è diametralmente opposto a quello di Cortot, lo abbiamo detto Il suo era un approccio molto rigoroso al testo musicale La tecnica adamantina, controllo ritmico perfetto e un grande equilibrio melodico Noi vogliamo congedarci su un'incisione mitica che ancora oggi è un riferimento Lo splendido concerto di Schumann che nel 1947 vede come direttore d'orchestra Herbert von Karajan Un giovane Karajan e è una testimonianza di un modo di fare musica, direi, inimitabile Ma non ti ho cercato per passare una serata divertente, queste cose non mi interessano affatto Ma lo sconforto che hai dentro, la tua malinconia senza rimedio, non riesco a sopportarla Leonardo ci sono due cappotti di cammello nella storia del cinema No, ce ne sono tre Perché? Perché c'è quello di Marlon Brando in Ultimo Tango di Bertolucci C'è quello di Alain Delon nella prima notte di quiete Sul pontile a Rimini Un incipit straordinario Che è il film del protagonista della seconda parte dell'Almanacco, Valerio Zurlini Perché lui nasce il 19 marzo del 26 a Bologna Ma io ho detto che i cappotti sono tre Perché non si può non citare Giuliano Montaldo Come aveva il cappotto cammello Giuliano Montaldo Uomo di raffinata eleganza Senti, i due cappotti di Delon e Brando escono insieme Era l'anno del cappotto Era l'anno del cappotto Il 23 ottobre 1972 a New York C'è l'anteprima dell'ultimo tango a Parigi Poi attenzione, un cappotto portato con grande disinvoltura Per niente affettati Per niente Ecco Non come quelli di certi Cumenda Esatto, no? Sono d'accordo La seconda prima avviene tre giorni dopo a Milano Ed è appunto la prima notte di quiete Alla quale, pensate, non arrivano né Alain Delon Né Valerio Zurlini Lui era ricoverato in una clinica di Lausanna Per un fortissimo esaurimento dal lavoro I giornalisti però erano ben contenti Di poter paparazzare l'attrice ballerina Sonia Petrovna La Petrovna E Delon non si sa perché non ci fosse Si sa che i rapporti tra Alain Delon E Valerio Zurlini erano pessimi E che Delon, che era anche coproduttore del film Per la versione francese impose una serie di tagli In modo spietato E di cambiamenti Almeno una ventina di minuti È un film meraviglioso Per ambientazioni Per idee Per suggestioni C'è la visita alla cappella di Monterchi C'è una parte ambientata in una villa meravigliosa Della provincia di Bologna La villa Malvezzi Campeggi A Bagnarolo di Budrio Ci sono delle Veramente delle magie Delle suggestioni Grandiose La storia è quella di un intellettuale sradicato È il cinema di Zurlini questo Di un disilluso Di una figura del nichilista Che torna È una sorta di estremo pellegrinaggio Nei suoi luoghi della giovinezza Ed è un film di culto degli anni 70 Allora In uno slancio autobiografico Il capotto di Delon Pare che fosse il capotto del regista Per sintetizzare Nella storia del nostro cinema Ci sono i grandi autori Pellini, Visconti Poi ci sono i maestri della commedia Risi, Monicelli Ci sono quelli Che si concentrano su un genere specifico Dario Argento, Sergio Leone Valerio Zurlini Non rientra in nessuna categoria Era un regista letterato Era molto serio Era intransigente E per lui fare un film Era un'opportunità Per scavare dentro se stesso Il suo è un cinema Di persone disorientate Dentro un contesto Che è o indifferente O peggio A volte ostile In cui viene dato poco spazio Alla divagazione umoristica Pochissimo E molto al dramma interiore Dei personaggi Ci sono i labirinti tortuosi Della loro esistenza E i labirinti molto tortuosi Delle loro affettività Faticava a portare a casa i progetti Infatti se voi guardate Ha realizzato solo 8 film Un po' perché Ha vissuto di più di Nino Lipati Ma è morto a soli 56 anni E un po' perché appunto Procedeva molto lentamente Chi scrive di lui Spesso si sofferma Anche sui film mancati Che furono di più E gli costavano La stessa fatica Di quelli usciti Beh se ne citano almeno due Leonardo Guendalina 1957 Che poi sarebbe stato Assegnato Da Carlo Ponti Di cui Zurlini Diceva un uomo Dalla brutalità Senza scupoli A Latuada Ad Alberto Latuada E poi un caso Importante del nostro cinema Premiato con un Oscar Forse non meritatissimo Ecco forse questo è un rimpianto vero Sì Zurlini sarebbe stato perfetto Perché invece l'atmosfera Tratteggiata da De Sica A mio modo di vedere De Sica è un genio Ha dei limiti Ha dei limiti Parliamo del giardino Dei Finzi Contini 70 Che doveva fare lui E che poi Viene dato appunto a De Sica Con cui De Sica Vince l'Oscar Come miglior film straniero Zurlini era di Bologna Nasce il 19 marzo del 1926 Finisce il liceo Si arruola nel Corpo Italiano Di Liberazione Vale a dire L'unità militare Schierata a fianco degli Aleati Nella conquista del Sud Finisce la guerra Si laurea in legge Non fa il diplomatico Come avrebbe voluto il padre E finisce a Milano E qui lavora Come aiuto regista Al piccolo teatro Quindi pensiamo a Paolo Grassi E a Giorgio Streler E salutiamo ancora una volta Il nostro adorato Carlo Fontana Sarà l'avventura Sarà l'avventura Il saggiatore In libreria Non perdetevi Non perdetelo E soprattutto Non parliamo dei candidati Ma parliamo dei decisori Io mi tolgo il sassolino Lo spettacolo Sassolone Diciamo che c'è una pietra Della mia scala La famosa pietra dello scandalo Perché i decisori Del teatro alla scala Stanno mostrando Veramente Uno spettacolo Indecoroso Adesso cammini meglio E io penso Che qualcuno invece Semplicemente E non è stato fatto Dovrebbe alzare il telefono E chiedere a Carlo Fontana Di dare qualche consiglio Ma non si fa Per sapere come si fa Perché sono tutti imparati adesso Hai capito Leonardo Senti Lui torna a Roma nel 49 E dirige alcuni corti E documentari Di quelli che una volta Si mostravano al cinema Tra uno spettacolo e l'altro Si trova qualche cosa Su Youtube Il blues della domenica 1951 Sui giovani jazzisti italiani La stazione del 52 Sulla stazione Termini Documentari Come è stato detto Dove già sul finire Del neorealismo Zurlini cerca Quella sintesi Visiva Tra la purezza Delle forme plastiche E la verità Degli affetti Che resterà sempre Il suo traguardo Di fervido Narratore Di immagini Senti Il 1952 C'è il debutto Al cinema E' un film A cui Mereghetti Assegna tre stellette Le ragazze di San Frediano E' tratto da Pratolini E' un cast davvero pazzesco Leonardo E poi Un film bellissimo 1959 Estate violenta Storia di base autobiografica Di un giovane italiano E dei suoi tormenti Nell'ancora ingenua estate Del 1943 Eleonora Rossi Drago Jean-Louis Trintignant Piero Maranghi Non sapete che Proibito circolare Sulla spiaggia Dopo il tramonto No Non lo sapevamo E che c'è la guerra Lo sapete Abassi quella luce Beh Sembrerà strano Ma i ragazzi E le ragazze Andavano in spiaggia A guardarsi E a fare i bagni Prima Di quel Fatidico 8 settembre Senti Degli 8 film di Zurlini Ne citiamo Almeno 6 Che è un'ottima percentuale Uno è veramente indimenticabile La ragazza con la valigia 1961 Un film che merita Anche solo per il Romolo Valli Prete Indimenticabile Poi lei è di una bellezza Povero Valli Quante volte fa il prete però Perché lo fa qua Eh ma perché Quell'aria Lo fa nel gatto pardo E lo fa nel dentone E lo fa nel dentone Funzionava E quindi Senti La bella ballerina Ida Che è seduta dal Playboy E Ricordiamoli In questo film c'è La bellezza di Claudia Cardinale Che è Che salutiamo Guarda Manacco Va bene Cronaca familiare E il quarto Una meraviglia Un film Durissimo Vasco Patolini Il film che gli dà Leone d'Oro Come regista Però attenzione Ezequo Con l'infanzia di Ivan Di Andrei Tarkovski E' un film che a noi Sta molto a cuore Perché La colonna sonale Cronaca familiare Non Tarkovski No non Tarkovski Tarkovski Va bene Perché la musica Di questo film E' stata scritta Dal grandissimo Goffredo Petrassi E se non sbaglio E' stata diretta Dal grandissimo Franco Ferrara Senti Il settimo Il settimo è La prima notte Di quiete Del quale Parlammo All'inizio L'ottavo e ultimo film 1976 Devo dire Stroncato da Mary Gettie Con una stella E' perché ha dei tempi Un po' dilatati E' il deserto Dei Tarkovski Giuliano Gemma Che ai tempi Fu considerato Il suo capolavoro Certamente Lui accolse A pieno titolo I temi cruciali Di Buzati Quindi la fuga Del tempo La certezza Che la morte E' l'unica ragione Della vita E poi Il terribile Assillo Dell'attesa L'attesa Il regista Purtroppo Muore Solo sei anni Dopo Di cirrosi 26 Ottobre Siamo a Verona Al Policlinico Nel 1982 Senza aver diretto Più nulla Sono i postumi Di una terribile Emorragia Gastroenterica Dovuta Alla cirrosi Epatica Di cui soffriva Un mese prima Era apparso in pubblico Per l'ultima volta Alla mostra Del cinema Di Venezia Dove ci mise Del suo Per assegnare Il leone d'oro Allo stato Delle cose Di Wim Wenders Marcel Carnet Presidente Della giuria Avrebbe preferito Carell Aveva ragione Zurlini Alle nostre spalle Con la messa di gloria Di Rossini Con il Procione C'è il nostro Almanacco di bellezza Un libro nuovo Di cui non abbiamo mai parlato Che speriamo Possa essere presto Sugli scaffali Delle vostre meravigliose case Dove non ci avete mai invitato Io conosco persone Che mi dicono La gallina è spenta Lo leggo Ogni sera Prima di andare a dormire Sì Il gran San Bernardo Che ha vinto il Nobel No Fu il primo Traforo stradale Aperto al traffico Attraverso la barriera Delle Alpi E se non l'avete mai fatto Percorretelo Poi una volta che l'avete Percorso Un'opera ciclopica Tornate su per il passo Certo Il passo è bellissimo C'è il monumento a Desè No ma ci sono delle cose Stupende Ci sono i San Bernardo Che stanno lì Un po' Oggi Tu gli fai così Si sai che San Bernardo Si dice che devi Correre subito Quando vengono a salvare qualcuno Perché Quelli che hanno La botticella Sì perché poi Se no se lo mangiano Però noi abbiamo Il nostro varano Che li tiene a distanza E fu inaugurato Con un anno di anticipo Rispetto al cugino Del Monte Bianco Quindi San Bernardo È un record Della nostra ingegneria Della nostra saper fare Della grande creatività italiana Fantastico Come il senziale Potresti dire Con un moto patriotico Del Made in Italy Del Made in Italy E unisce che cosa Il Timbota Unisce che cosa Il tunnel Che era San Bernardo San Bernardo Unisce l'Italia La Svissera E in particolare La Val d'Aosta Al Vallese Al Vallese Senti Leonardo E io Posso riferire A questo punto Perché oggi La è martedè E avere un nes Che è al Pessa in bacca Cioè Avere un naso Che si piscia in bocca Scusate Cioè Il naso adunco Ridila meglio E avere un nes Che al Pessa in bacca Può andare? Va bene Lui è snob anche Sul Bodenese Beh sul Bodenese Diciamo Ho sentito di meglio Però Vedo che l'allenamento Dà i suoi frutti Va bene Piano piano Pian pianei Pian pianei Va bene Senti Leonardo Ci vediamo domani Noi domani Saremo ancora qua Per forza Non c'è neanche bisogno Di dirla domani Perché ormai L'hanno capito No però è un po' Che non lanci I programmi della rete È vero Guardate Stasera Veramente Rimanete Incollati A questo canale Non ve ne pentirete Silenzio È sempre una minaccia Ottimo Va bene A domani Almanacco di bellezza A cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini Con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini Realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini Prodotto da Piero Maranghi Una produzione Classica HD Sky Canale 136 In collaborazione Con Intesa San Paolo PWhoa Grazie a tutti genuine Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti